E ti dirò di più che mi ha confessato Vicadini che a sua volta Don Giussani ha confessato che nell'85, la prima volta che fu sulla scheda elettorale, Don Giussani votò la Lega e sono uscito estremamente orgoglioso perché Don Giussani è una cosa diversa. Stai dando una notizia esclusiva. Io registro tutto. Grazie.